Amici e amiche, senza sigla perché vi devo dare una brutta notizia. Tre giorni fa è scomparso, all'età di 94 anni, un celebre regista della televisione italiana, un noto autore televisivo del mondo. Sto parlando di Antonello Falqui. I funerali si sono svolti stamane nella chiesa di Sant'Eugenio, in piazza delle Pelleati, a Roma. Prima di concludere questo mio primo intervento, vorrei fare una preghiera e poi il cosiddetto mantra. Rassonia mia mamma, l'eterno riposo do la loro Signore. Splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, e così sia. In coincidenza con la morte di Antonello Falchi, c'è stata l'acqua alta a Venezia proprio nei giorni scorsi. Alla prossima ed un bacio al vostro Mauro.